Sono abbattuto eh, sono molto molto sconfitto, mortificato, deluso, inorridito, ma non con me stesso eh, con me ce l'ho, ce l'ho con me, soltanto con me, perché? Perché come cazzo si fa? E lo chiedo a voi a sto punto, ancora una volta e per sempre, comprare Balotelli al fantacalcio, come cazzo si fa? E io lo faccio, lo faccio sempre, quando Balotelli si presenta in Serie A, pum, deve essere mio. E sarà anche per questo che poi ne avessi vinto uno di fantacalcio in vita mia, uno! Però non è che posso prendermi con Balotelli, me la devo prendere con me stesso, ecco. E qui è un discorso che poi ripropongo anche a voi, non è che veramente potevamo ancora una volta credere, sai, e io me li ricordo i commenti e credo che forse avrò pensato a questo punto la stessa cosa, no? Che è successo qua? Balotelli torna a Brescia, sai la sua città, ma questo può essere, eh, quella, può essere la volta buona, ecco, damole un'altra chance, damole un'altra chance, damole un'altra chance, damole un'altra chance, damole un'altra chance. Ecco, e questo è il discorso, eh, oddio, magari stavolta, stavolta magari il ragazzo, poi alla fine è per quello che ci raccontano, e magari stavolta il ragazzo è anche una vittima del sistema, perché dall'altra parte c'è il signor Massimo, che non è che poi sia il santo, eh, sceso in terra, eh, è il Dio sceso in terra, vale se dice il Dio, vale se dice il Dio. E quindi siamo seri, siamo anche un po' seri, però dalle ricostruzioni e ve le riporto, pare che come al solito Balotelli abbia fatto un po' la bambinata, ecco, si parla di Balotellate, le mettiamo tutte un po' bambinate, perché, cioè, pare che, eh, adesso, di ritorno agli allenamenti, non abbia superato i test fisici, test atletici, quelli che, quelli che sono, e allora l'hanno messo i lavori a parte. Lui, per ripicca, cosa fa, cosa non fa, sempre, stando a quello che ci raccontano, eh, perché poi bisogna sempre dirlo, lui cosa fa? Niente, si finge malato, porta, le, 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 un certificato dove, dove lui soffre di gastroenterite, ste robe qua, strane, contro, vabbè, un po' mi ricorda Capitano Scinocchio, ste robe qua, che dopo la fascia, dopo il giochini, si era, si era infortunato di punto in bianco. Ma quelle cose che possono capitare dall'oggi al domani, ci mancherebbe, alcune volte può capitare davvero, e quindi, ste robe, ste robe qua, e, e quindi, a sto punto, sai che c'è, cellino, eh, via, via, Balotelli magari adesso potrà anche buttare giù una causa di mobbing, non lo sappiamo, può succedere qualsiasi cosa, ma, fatto sta che tra Brescia e Balotelli è finita, ecco, questo, questo è sicuro, è roba, è roba certa, è roba scritta, è roba matematica, e niente, ragazzi, su, 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 su Balotelli non c'è, non c'è nulla da dire, niente, ehm, riportiamo la frase che adesso pronunciano un po' tutti, anzi, veramente tutti, io ho visto sul web, che poi Balotelli è finito subito in tendenza, mamma mia, ha una capacità, è comunque una popolarità, no, una popolarità nota, stavo dicendo, è popolarità nota, perché poi questo gli va detto, di subito di essere al centro dei pensieri degli italiani, e così è inutile ed è negabile, no, perché se Balotelli combina qualcosa, a qualsiasi cosa, se ne parla, no, non passano gli anni, ma di Balotelli si parla lo stesso, e questo va detto, assolutamente, e, e, che stava a dire, mi so perso, mi so perso, sai, faccio quei giri immensi e poi mi perdo, ah, e aveva ragione di, il Chiellini, che l'ho trovato appunto un po' ovunque, eh, sui social, aveva ragione, chiedeva, ragazzi, ma, io l'ho detto, e lo ribadisco, su Chiellini, non si contesta il contenuto, si contesta la forma, l'abbiamo detto mille volte, Chiellini, capitano della Juve, vice capitano, e comunque capitano più volte, eh, vice capitano della Juve, capitano anche dell'Italia, eh, e te ne esce con ste robe su Balotelli, che poi alla fine è un ragazzo, è un ragazzino, è quello che è, ma, non fa, magari, non, che poi, quello che abbia detto Balotelli è quello che pensano, non 10.000, non 10.000 italiani su 10.000, 20.000 su 10.000, questo è, questo è un altro discorso, quindi, l'aveva ragione di Chiellini, aveva ragione di Chiellini, aveva ragione di Chiellini, aveva ragione di Chiellini, aveva ragione di Chiellini, eh, sì, questo è il discorso, detto ciò, Balotelli, ragazzi, io dico sempre, non giudichiamo da ciò che si dice, giudichiamo da ciò che si fa, ecco, perché sono qui un pochettino in modo teatrale a sbeffeggiare quello che è accaduto nuovamente, ma ripeto, magari stavolta veramente Balotelli, poverino, è vittima di mobbing, facciamo che veramente lui sia vittima di mobbing, facciamo, poniamo anche il caso, e sarebbe spiacevo, però il problema è che tu raccogli nella vita, alla fine bisogna dirlo, quello che semina, lui cosa raccoglie? Raccoglie comunque tanti soldi, perché ne avrà tantissimo, cazzarola se lo invidio per questo, e li raccoglie perché comunque gli hanno donato un talento importantissimo, ma allo stesso tempo raccoglie anche, solo e sempre, tanti fallimenti, almeno dal punto di vista calcistico parlo, perché Balotelli ha 30 anni, o quelli che ha, no, è il 92 come me, no, è il 91 lui se non sbaglio, 91-92, non ricordo, non è che è proprio 90, mo' lo devo trovare sto punto, scusate ma sto punto lo devo trovare, 91-92-92, Balotelli, che classe è? Balotelli è un 90, ecco appunto, è un 90, è un 90, Balotelli 90, ormai ha 30 anni, ad agosto 30 anni, è fatto fuori persino dal Brescia, oddio Brescia poverino, ci mancherebbe, Brescia che è la sua città, tutto è anche là, figlio mio, non è ben visto ormai più, ragazzi, un motivo ci sarà pure, ragazzi, un motivo ci sarà pure, è la sua presentazione ideale, e si riassume Balotelli, due episodi riassumono un po', anzi tre, tre episodi, primo, il primo episodio quando getta la maglia dell'Inter, e non dico che da interista, ed è normale che poi da interista ne soffro e ne patisco ulteriormente, però getta la maglia dell'Inter, ma qualsiasi maglia, di qualsiasi squadra, in qualsiasi contesto, tu getti la maglia, ragazzi, di che stiamo parlando, di che stiamo parlando, e quindi lì c'è il primo campanello, secondo campanello, in una partita col Manchester, se non sbaglio comunque, sì, amichevole, ma prende solo davanti al portiere, si gira, fa un mezzo tacco, io me lo ricordo, Mancini prende e lo butta fuori, ma che fa questo? E quello è Balotelli, terzo, contro chi? Contro la Germania, la doppietta, i golli di Balotelli, sì, anche il genio, anche la forza, anche la bravura, anche l'intemperanza, anche quello, forte sì, ma purtroppo stiamo sempre a ripetere la stessa sorfa, sempre la stessa roba, eh ma se Balotelli avesse la testa, eh se Balotelli avesse la testa, se Balotelli avesse la testa, Balotelli non a testa, tutto qua, il gioco è questo, e purtroppo è così, a me dispiace, poi dispiace anche relativamente, perché poi Balotelli se ne frega, e fa, oddio, fa anche bene, alla fine Balotelli sta bene come sta, sta sicuramente meglio di me e con ogni probabilità anche di te che mi stai a guardare, quindi alla fine va bene così, però dispiace per quello che è, ma soprattutto per quello che sarebbe potuto essere. Un grande abbraccio, iscrivetevi al canale, iscrivete? Non credo, comunque, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio. Ciao!